In occasione del settecentenario di Dante Alighieri gli Uffizi hanno portato all'Opificio delle Pietre Dure l'affresco staccato di Andrea del Castagno, sicuramente tra i più famosi ritratti storici del sommo poeta, per il primo restauro dopo di che questo affresco era staccato negli anni Sessanta dell'Ottocento ed è veramente splendido quello che ora si vede, il poeta sembra ringiovenito effettivamente e si vede con precisione ogni pelo della sua barba di un giorno e mezzo, due giorni, cosa che prima non era visibile per via del polvere e dello sporco di un secolo e mezzo che aveva raccolto sulla sua superficie, ma ci sono altri particolari che ora emergono chiaramente ed è anche strutturalmente rafforzato e quindi pronto per il viaggio a Forlì, dove fra pochi giorni verrà allestito per la grande mostra con oltre 300 opere, di cui oltre 50 opere dalle Gallerie degli Uffizi, mostra che le Gallerie degli Uffizi coorganizzano con la Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì in occasione di questo settecentenario e che per la prima volta ripercorrono tutte le tappe della fortuna visiva di Dante dai suoi giorni fino al contemporaneo e quindi veramente rendono evidente, rende evidente questa mostra l'impatto fortissimo su tutta la cultura italiana, non solo la lingua italiana, non solo la letteratura, ma anche appunto la tradizione visiva italiana e oltre anche quella inglese e tedesca sono inclusi, cioè proprio l'impatto internazionale di Dante attraverso i secoli. La grande mostra di questa primavera è della prima parte dell'estate, poi successivamente per il resto dell'estate l'opera sarà invece esposto a Castagno, quindi al luogo di nascita del pittore di questo affresco straordinario e famosissimo Andrea del Castagno, ma Castagno è anche un luogo dantesco, quindi c'è un doppio legame con questo affresco perché era proprio lì che Dante e gli altri esiliati si sono riuniti per un'ultima volta per decidere se tornare a Firenze o meno.